Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie alla dottoressa Storti e a tutto lo staff. Continuiamo con questo ciclo di conferenze stampa dove le nostre aziende presentano il lavoro che stanno compiendo in questo periodo particolare, che è il periodo dove la riforma tanto voluta e desiderata e anche a cui abbiamo lavorato tantissimo in questi ultimi due anni sta prendendo corpo e piede. Sicuramente l'Ast di Pesaro è uno dei territori più interessati e dove la riforma produrrà gli effetti più importanti, perché si parla dell'integrazione in quel territorio di due aziende che erano Marche Nord e una parte, l'area vasta 1 dell'Asur regionale e quindi credo che sia particolarmente interessante comprendere come questa integrazione sta procedendo e con quali effetti che noi auspichiamo migliorativi si arriverà alla costruzione dell'Ast o alla realizzazione di un soggetto che consentirà alla sanità pesarese di poter riuscire nell'obiettivo storico che noi ci poniamo di abbassare la mobilità passiva verso i sistemi sanitari dell'Emilia Romagna e cercando di implementare e andare a ricoprire quelle che sono anche le esigenze di fabbisogno la domanda di prestazioni che ci viene richiesta. Però io non vado oltre perché credo che queste cose le siamo dette tante volte, passo la parola al Vicepresidente Salta Martini che poi lui gestirà con la dottoressa Storti il restante della conferenza. Essendo una conferenza stampa naturalmente io passo la parola subito alla Storti per poi lasciare l'opportunità ai giornalisti presenti e collegati di fare delle domande. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente e Assessore per aver dato l'opportunità di incominciare a ragionare su alcuni primi risultati che si sta cercando di portare avanti in questa nuova AST. Ho voluto dare questo titolo a presentazione come l'anno dell'integrazione partendo dal presupposto che l'integrazione non si fa esclusivamente sulle carte ma si fa inizialmente incominciando a contaminare e mettere insieme il personale di due realtà completamente diverse con obiettivi e modalità operative diverse. Una struttura esclusivamente ospedaliera che come tutti gli ospedali non può sopravvivere a quella che è una sanità moderna se non ha un territorio prima e dopo l'ospedale. È una struttura territoriale che ha necessità per far crescere i propri professionisti e le proprie strutture di specialisti ospedalieri che accompagnino le loro azioni. Quindi il lavoro iniziale è stato proprio questo di mettere insieme quelle che sono le operatori e i percorsi e l'abbiamo fatto incominciando a ragionare proprio sulla parte più critica quella della struttura ospedaliere e dei posti letto. La nostra azienda nuova che nasce da questa fusione presenta un andamento di ospedali per acuti di circa 822 posti letto ordinari e 131 posti letto di DH e dei hospital. La prima modifica che abbiamo fatto è che la distribuzione dei posti letto non può essere rigida ma dipenderà da quelle che sono il fabbisogno del cittadino. Quindi numero di posti letto totali distribuiti in base alla presenza media dei soggetti per evitare che ci siano letti non utilizzati e quindi scarso utilizzo delle risorse e magari non mettere a disposizione posti letto per chi effettivamente ne ha bisogno. Oltre posti letto per acuti, l'AS di Pesaro ha una serie di strutture residenziali extra ospedaliere gestite direttamente, quindi con il nostro personale per un numero complessivo di 470 strutture residenziali e 104 strutture semi-residenziali. La realtà della provincia di Pesaro ha un'attività con il privato abbastanza limitata. Abbiamo 122 posti letto di strutture convenzionate per gli anziani e 118 per l'assistenza psichiatrica. È proprio nell'ambito dell'assistenza psichiatrica che l'istituendo atto aziendale sul quale stiamo lavorando insieme all'assessore Salta Martini è la parte sulla quale dovremo investire maggiormente dato quello che fa bisogno della popolazione, così come riportato nel piano sociosanitario. La slide successiva parla della personale presente in cifre. Io tengo a sottolineare che queste 4252 operatori dipendenti di questa AST sembrerebbero dei numeri di per sé sterili. In realtà nasconde dietro una serie di professionalità e di persone che sono quelle che stanno facendo il cambiamento di questa azienda. Quello che si può fare all'interno di un'azienda è solamente come direzione e la nostra direzione è molto aperta da questo punto di vista che fa un pochino la funzione di leadership e di accompagnatore ma sono i professionisti che ci aiutano a definire quelli che sono i percorsi. Una cosa di cui sono molto orgogliosa è questo. Noi abbiamo fatto da luglio del 23 23 bandi di concorso pubblico a tempo indeterminato quindi non solo avvisi a tempo determinato ma bandi per stabilizzare personale nuovo all'interno della nostra azienda. Sono arrivate 355 domande di medici quindi significa che nei prossimi anni noi avremo a disposizione un numero rilevante di medici. Questo è un cambio che io credo sia epocale rispetto a quello che era l'andamento dei concorsi che erano stati fatti nella nostra regione in passato. Ci tengo a dare alcuni numeri, 32 domande per l'oncologia, 65 per la cardiologia, 68 per le malattie infettive, 35 per il pronto soccorso e 28 per l'anestesia e l'animazione. Possiamo procedere all'assunzione immediata di 58 dirigenti medici. Tutti gli altri in graduatoria saranno poi quelli che sostituiranno il turnover o eventuali nuove assunzioni tenendo conto che grazie all'assegnazione dei fondi della regione di un aumento del tetto di spesa del personale questa nostra programmazione di piano occupazionale potrà avere un ulteriore slancio. Vediamo alcuni dati relativamente all'attività. Questa è la slide diciamo più critica nel senso sulla quale noi dovremmo lavorare ancora di più per il futuro e su questo grazie all'agenzia sanitaria, al dipartimento e al supporto dell'assessore quotidianamente teniamo sotto controllo. È il problema delle liste d'attesa. Abbiamo ancora un target di risposta delle liste d'attesa dell'82 per quanto riguarda le priorità B, 82 sempre per le D e 88 per le P. Abbiamo messo in piedi un sistema in cui i frutti cominciano ad aversi ma chiaramente serve di un ulteriore continuo attenzionamento attraverso la presa in carico di tutte le risposte che non riusciamo a dare nella giornata e ogni giorno, anzi ogni settimana abbiamo una sintesi di quante domande arrivano alle nostri servizi, quante sono state già erogate o perlomeno prenotate quante nel pubblico, quante nel private, quanto sono state messe nella lista di garanzia alla quale poi facciamo seguito le chiamate per cercare di localizzare la posizione migliore per la loro prestazione. Per dare un numero di quante prestazioni abbiamo fatto, nel 23 abbiamo aumentato di 403.696 prestazioni in più rispetto al 2022. Per renderci un pochino conto di quello che è il valore sono 58 milioni di valore di prestazione, quindi numeri molto importanti. Abbiamo risposto a un milione e mezzo di impegnative, quindi è chiaro che ancora sono poche rispetto a quello che è il percepito da parte della popolazione, ma l'impegno è notevole e quindi piano piano avremo anche dei frutti migliori legati ad un modello di riorganizzazione delle agende non più spacchettate su 4.000 prestazioni, ma su numeri più incisivi, una rivisitazione dell'orario del personale ed una riduzione della durata massima della prestazione sulla base di uno standard verificato su tutte le nostre strutture ospedaliere. Quindi abbiamo preso il modello migliore per poterlo poi ripresentare anche nelle altre realtà. Per dirvi le prese in carico abbiamo gestito 28.564 prese in carico, cioè quei cittadini che non avevano risposta nella nostra provincia e per li quali li abbiamo poi successivamente chiamati. Un argomento a quale mi pare molto importante perché voi sapete che nel momento del Covid abbiamo avuto un blocco di molte attività, tra cui anche quello dello screening oncologico. Nel corso del 23 noi abbiamo rimodernato quello che è il percorso dello screening e della cervice otterina allargando la fascia di età e utilizzando l'HPV anziché il PAP test e quindi siamo partiti nelle donne tra i 25 e 29 anni nel mese, nella prima fase dell'anno e a settembre per le donne tra i 30 e i 64 anni. Anche lo screening della mammella, così come da programmazione regionale, è stato ampliato nella fascia tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni e per rendere più fruibile le chiamate e le richiamate di queste donne è stato utilizzato un sistema digitalizzato ed un programma nuovo per la chiamata degli screening oncologici. Solamente per dare alcuni numeri, nello screening mammografico sono state invitate 27.300 donne, di queste hanno risposto 15.000, quindi solo il 56%, ma dobbiamo tener conto che nella nostra regione fino a qualche anno fa eravamo attorno al 50%, quindi recuperare un 6% è molto importante, così come abbiamo 5.000 solleciti che facciamo per far sì che queste donne rispondano. Una cosa che andrà ad impattare sulle liste d'attesa poi della mammografia è che cominciamo ad allineare le mammografie dallo screening con quelle diagnostiche. Nelle fasce di età in cui le donne dovrebbero fare la mammografia gratuita vengono travasate direttamente nel momento in cui fanno una mammografia clinica con richiesta del medico. Stessa cosa per lo screening del colon retto in modo tale che le persone hanno la certezza di essere chiamate nella fascia di età, nel periodo nel quale è necessario fare lo screening. Un piccolo accenno su quella che è stata la campagna vaccinale anti-influenzale è quella per il Covid. Diciamo che nel corso del 23 sono stati vaccinati, quindi l'ultima campagna vaccinale per l'influenza, la maggior parte di questi soggetti vaccinati è stata opera dei medici di medicina generale, quasi 50.000 dosi sono state fatte dai medici di medicina generale e questo è il risultato dell'accordo portato avanti sul tavolo regionale che ha permesso una corretta valorizzazione del lavoro fatto dai medici di medicina generale ed una semplificazione delle procedure di rendicontazione che gravavano sul lavoro dei medici di medicina generale. Anche i pediatri hanno dato il loro contributo così come non solo per la campagna anti-influenzale ma anche per quanto riguarda il Covid. Credo che così come nella nostra provincia, così come in tutta la regione, che questi ultimi accordi che sono stati portati avanti con i medici di assistenza primaria, medici di medicina generale ma anche con i medici del 118, fa la differenza sulla risposta da parte della popolazione in questa attività che sono prioritariamente di assistenza primaria. Un rapido escursus su quella che è l'attività ospedaliera e questo noi nell'azienda siamo molto orgogliosi perché finalmente rispetto agli anni passati nel 2023 abbiamo avuto una crescita significativa dell'attività chirurgica. Questo non significa che l'attività chirurgica è prioritaria rispetto a quella medica ma è la parte chirurgica che trascina un ospedale. Laddove il soggetto si va ad operare poi ritornerà anche per altri tipi di attività che sono più di tipo internistico. Abbiamo avuto nel 2022 il 23% di incrementi della robotica, gli interventi in robotica. Questo è importante perché riduce i tempi di attesa e soprattutto riduce i tempi di ricovero permettendo quindi l'esecuzione di più interventi. Di questi interventi il 4,3% è una mobilità attiva, quindi stiamo invertendo un pochino la rotta nel senso che operiamo di più i nostri cittadini e nello stesso tempo diventiamo attrattivi proprio con quelle procedure che sono innovative rispetto alle altre. Scendendo nei vari presidi ospedalieri l'ospedale di peso era incrementato del 9,4% in ambito chirurgico, ortopedico, ginecologico, neurochirurgico ed urologico. Fano il 2,1%, Urbino il 3% ed aumentato il peso medio degli interventi di Urbino avendo selezionato questo grazie alla possibilità di spostare interventi più piccoli negli ospedali di comunità o negli ospedali a rete presenti all'interno di questa provincia. L'ospedale di Pergola ha incrementato l'attività chirurgica del 46,8%. Praticamente è stata riaperta tutta l'attività chirurgica e c'è una seconda sala a disposizione per i piccoli e medi interventi. Un dato molto importante è quello della chirurgia ortopedica. Ci tengo a sottolinearlo perché oltre all'incremento del 5,6% su Urbino e del 3,7% su Pesaro, nell'ambito chirurgico ortopedico è stata avviata la prima progettualità per recupero della mobilità passiva attraverso una programmazione di interventi in un presidio ospedaliero, la presa in carico con la riabilitazione insieme alla riabilitazione nostra pubblica e anche con la riabilitazione privata che ha ridotto il tempo di trattamento da 30 a 12 giorni e questo ci permette di raddoppiare il numero degli interventi e la presa in carico di questi pazienti. Alcune novità in ambito chirurgico. Abbiamo iniziato a operare anche i bambini di età inferiore ai 5 anni in ambito di otorino ma lo stiamo facendo anche in ambito ortopedico e quindi evitiamo ai bambini della provincia di Pesaro di dover andare esclusivamente al Salesi risolvendo problemi anche piccoli nella nostra realtà. Questo grazie ad un'iniziale convenzione con gli anestesisti e gli animatori del Salesi che sono intervenuti e che stanno formando i nostri fino a renderli nel corso dell'anno 24 completamente autonomi avendo acquisito le skill specifiche. Facciamo interventi di ortopedia con megaprotesi anche in pazienti molto anziani che se da un punto di vista sociale può sembrare sanitario, può sembrare poco importante da un punto di vista sociale significa rendere di nuovo autonomi persone sopra i 90 anni e quindi un recupero della qualità della vita ed un recupero anche dell'assistenza che dovrebbe eseguire. Nella nostra neurochirurgia il 43% ha pazienti che provengono da fuori regione quindi sta ricompensando in qualche modo quella che poteva essere una mobilità passiva. Così come gli interventi di senologia, il 50% sono donne che provengono da fuori regione o provincia. Abbiamo fatto più di 1000 interventi di senologia suddivise nelle due presidi, quello di Fano e quello di Urbino ed anche Urbino pur essendo uno spocche della breast unit ha raggiunto i volumi minimi. Questo significa qualità nella prestazione. solamente alcuni grafici, questo è l'andamento dei ricoveri, se noi consideriamo il 2020 quindi prima del problema Covid, il 23 ha avuto comunque un incremento del 25% rispetto al 2020 quindi significa che siamo ritornati ai valori pre-Covid e anche aumentati. La provenienza prevalentemente della provincia di Pesaro con un 4,5 fuori regione e quello che mi preme rapidamente illustrare sono l'attività di investimento che è stata fatta all'interno di questa provincia, di questa Asta. Grazie ai finanziamenti da parte della regione abbiamo avuto interventi strutturali per 5 milioni di euro, attrezzature sanitarie per 9 milioni di euro, immobilizzazione 1 milione e 2, arredi per circa 300 mila euro e attrezzature informatiche ed altri beni per 360 mila euro. Quindi l'Ast di Pesaro nel 23 ha speso 16 milioni a favore del miglioramento delle strutture degli stabili ma anche di quelle che sono le tecnologie messe a disposizione. Se entriamo nel dettaglio abbiamo una nuova risonanza magnetica a Urbino che ci permetterà di effettuare esami molto più rapidi rispetto al passato e quindi lavorare sulle liste d'attesa. Ricordo che la risonanza magnetica è una delle più critiche che abbiamo nella nostra regione come tempi di attesa, abbiamo aumentato i posti di letto dell'ospice di Fossombrone, abbiamo fatto interventi di sicurezza su edifici danneggiati da eventi sismici perché la struttura è quella che attira oltre che il personale che sta dentro sia nuovi medici o personale che naturalmente gli stessi pazienti, l'adeguamento sismico all'ospedale di Pesaro e di Urbino ed altri adeguamenti strutturali per quanto riguarda l'antincendio compreso l'ospedale di comunità di Sasso Corvaro che ha estrellato proprio in questi giorni la nuova risonanza magnetica anche qui a favore della riduzione dei tempi d'attesa. Investimenti per 9 milioni comprendono delle tecnologie molto importanti, l'acceleratore lineare di muraglia, abbiamo un acceleratore nuovo che ci permette di ridurre i tempi di trattamento radioterapico e quindi fare più pazienti, la nuova risonanza magnetica a Fano, risonanza magnetica a Urbino, l'attacca a Pesaro, 4 mammografi per implementare lo screening, 4 ecotomografi per l'ospedale di Pesaro e di Fano, una serie di microinfusori per i pazienti diabetici, tutti sappiamo quanto è importante e sensibile l'attività nei confronti dei pazienti diabetici, abbiamo nuove colonne endoscopiche ad Urbino e abbiamo raddoppiato il numero delle colonoscopie su Urbino proprio per la riduzione delle liste d'attesa, sala partono tecnologie cardiografi e sistemi polifunzionali per la radiologia. Ma che cosa ancora si sta portando avanti con il PNR? Devo dire che tutte le procedure del PNR stanno seguendo i tempi e sono perfettamente nei tempi stabiliti dal Ministero e dalla Regione e riguardano ospedale di comunità di Monbaroccio, casa della comunità di Pesaro, Fossombrone e Mondolfo e le centrali operative cotte di Fano, Pesaro ed Urbino. Questo è l'importo, quindi parliamo di 2 milioni e mezzo su Pesaro, 750 mila euro su Fossombrone, 400 mila euro su Mondolfo, 4 milioni e 8 monbaroccio e le cotte che costano rispettivamente 173 mila euro. Qual è la situazione di integrazione, come dicevo all'inizio, tra l'ospedale e il territorio? Su indicazione fondamentalmente dell'assessore del Dipartimento, abbiamo incominciato a lavorare sui punti salute. I punti salute sono molto importanti perché rappresentano un filtro e una medicina proattiva che partendo dal medico di medicina generale e dall'infermiere di comunità ci permetterà di individuare patologie prima ancora che il paziente se ne renda conto arriva nei nostri punti di erogazione e supportati da tecnologie quali lo spirometro, il pulsimetro, l'ecodoppler, il doppler pressoio e cardiaco ci permette di fare degli esami letti in telemedicina direttamente nel punto di salute e a casa del paziente. Avviati Pian di Meleto, Frontino, Lunano, Belforte, Monte Grimano, Monte Cerignone o Peglio e ulteriore estensione di questi punti salute saranno Fossombrone, Calcinelli e Cagli. Potenziamento del territorio. Il territorio è molto importante. Siamo partiti con il progetto DAMA che è un progetto dedicato alla disabilità e abbiamo in carico soprattutto ragazzi autistici che rappresentano un problema per le famiglie molto rilevante. Abbiamo riattivato un'apotese nel 2023 a Frontone. Abbiamo ambulatori di sostegno della medicina generale in questi due comuni di Urbino. Nuove tecnologie per la casa della salute di Vallefoglia. attività ambulatoriale presso l'ospedale di Pergola Nuove, lo Torino e potenziato il servizio anche alla casa della salute. E abbiamo l'attivazione sette giorni su sette della continuità assistenziale anche per la comunità di Vallefoglia. Altre attività prese. Parlavo prima dell'ambulatorio infermeristico. L'elio soccorso 118 partito nel novembre del 23 a Carpegna e presto ne apriremo anche un altro in un altro comune vicino. Una cosa molto semplice ma a volte importante. Abbiamo attivato delle convenzioni con l'associazione di volontariato per far arrivare a casa i farmaci ai pazienti direttamente. Quindi per chi ha delle disabilità molto gravi che devono ritirare i farmaci nelle nostre strutture li consegniamo direttamente a casa. E come vi dicevo prima l'attivazione di un percorso di riabilitazione in ortopedia e neurochirurgia per abbattere i tempi. Abbiamo avuto anche dei riconoscimenti in questo anno che credo sia importante nominarli perché riguarda soprattutto l'impegno dato dei nostri professionisti. Abbiamo avuto una pubblicazione di uno studio molto centrico su una rivista internazionale al quale partecipano 24 centri nel mondo e c'era anche la nostra chirurgia di Pesaro. Stessa cosa per quanto riguarda una pubblicazione su uno studio fatto di 129 pazienti sull'insufficienza renale. Questo perché è importante? Perché l'AST pur essendo una struttura ospedaliera non universitaria sta lavorando per aumentare il gradiente di competenza sia nella ricerca che nella didattica avendo corsi di formazione per infermieri specializzanti da noi che è un valore aggiunto perché crea quello stimolo quella necessità di essere sempre più curiosi nei nostri professionisti. Abbiamo avuto il riconoscimento speciale all'ospedale di San Salvatore per la gestione delle complicanze post-operatorio per i tumori della prostata. Siamo stati individuati come centro platinum per lo stroke unit e siamo stati promossi con Bollini Onda per quanto riguarda l'ospedale a tutela della donna e del bambino. Quali sono le future prospettive che quest'AST sta mettendo in piedi relativamente all'atto che dovrà essere ridatto? Vi ho già parlato della chirurgia ortopedica che è il primo settore nella quale vorremmo andare a mordere quella che è la mobilità passiva e i primi risultati arrivano. Stiamo lavorando sul potenziamento di un percorso radioterapico che possa trattare in modo più mirato quelli che sono i tumori e quindi ridurre la durata da sei settimane a cinque giorni con delle tecnologie nuove. Abbiamo attivato una chirurgia pediatrica a rete e stiamo costruendo la rete odontosomatologica per i disabili. Abbiamo un progetto sull'ospice pediatrico un gruppo di lavoro sta progettando quelle che sono le necessità per l'ospice pediatrico che non dovrebbe essere solo un ospice pediatrico ma un accompagnamento di tutta la fase della malattia purtroppo di questa realtà così triste. Abbiamo avviato il progetto per il centro autismo che prevede non soltanto centro diurno ma anche la possibilità di una residenzialità laddove chiaramente ce n'è necessità. Tutti i PDTA sono in fase di rivisitazione sia per quanto riguarda il percorso che per quanto riguarda l'integrazione con le due ex aziende o area vasta e azienda e una serie di accordi con l'università che oltre a sviluppare quello che sarà le competenze dei nostri professionisti per valorizzare anche i nostri ospedali territoriali quindi con l'università di Urbino stiamo portando avanti delle collaborazioni con l'ospedale di Urbino e anche per quanto riguarda delle ricerche i cui risultati li vedremo fra qualche anno purtroppo però sicuramente molto stimolante e molto importante. Io mi fermo qui scusate per la lungaggine grazie a tutti. Grazie dottoressa Storti io non sono intervenuto perché andavano illustrati i dati mi pare che siano dati inequivocabili sull'impegno del servizio sanitario nella provincia di Pesaro Urbino mi piace ricordare che su Pesaro e su Fano ma anche su Urbino ci sono specializzazioni di secondo livello sono specializzazioni importanti che qualificano il personale sanitario e la qualità del servizio sanitario e mi piace ricordare anche e sottolineare l'inversione della mobilità ci si viene a curare nelle marche più 4% è un segnale assolutamente importante e positivo naturalmente nessuno è soddisfatto al 100% è un percorso che stiamo facendo ma sento personalmente di assumermi la responsabilità di tutto ciò che non funziona e rimeritare l'impegno di OS infermieri medici del servizio sanitario regionale intero ma anche della provincia di Pesaro Urbino naturalmente questo ruolo così significativo ecco deve essere riconosciuto alla dottoressa Stotti la quale naturalmente ha dovuto mettere a frutto la sua esperienza per fondere due aziende e mi pare che i risultati seppur preliminari seppur dei primi mesi stanno emergendo con grande chiarezza e con grande determinazione mi piace anche aggiungere che la riforma è conclusa è entrata in vigore da qualche mese come diceva il presidente Acquaroli è il frutto di una missione che il corpo elettorale ci ha affidato tre anni fa era quella di riequilibrare i servizi quindi non di potenziare nulla su Pesaro e su Fano ma di aumentare i servizi sul territorio e su questo punto voglio ricordare che la regione ha investito un finanziamento fondamentale importante sul Sasso Corvaro in cui vengono garantite cure mediche ortopediche e la microchirurgia stiamo ragionando con COS su macerata feltria abbiamo notevolmente implementato la funzionalità di pergola di fossombrone i dati sono inequivocabili e ci sono degli investimenti e il potenziamento di cagli mi pare che non è la stessa cosa rispetto a tre anni fa poi tutto si può migliorare ma all'intenzione e l'impegno della regione del mio assessorato di cui ho la responsabilità sotto naturalmente la direzione del presidente Acquaroli è chiarissimo e inequivocabile trattandosi allora di una conferenza stampa non di un convegno chiunque vuole imporgere domande siamo qui per rispondere salvo che il presidente non debba aggiungere altro salve non so se posso intervenire se mi sentite Roberto ci accarini salve ciao assessore volevo innanzitutto un aiuto se ci mandate le slide poi dopo la fine della conferenza stampa per riportare correttamente i numeri questa è la domanda sulla mobilità perché sono stati sottolineati i dati sulla mobilità attiva ma com'è la situazione invece della mobilità passiva in confronto agli anni passati prego allora il dato certo della mobilità passiva purtroppo rientra quando viene fatta la compensazione tra regioni quindi lo sapremo fra due anni più o meno quello che noi adesso monitoriamo è i pazienti che vengono da fuori regione e li segnaliamo perché chiaramente abbiamo l'anagrafica i nostri non possiamo farlo a meno che non siamo noi che per motivi clinici li dobbiamo trasferire fuori quindi in questo momento dobbiamo accontentarci di quella che è l'attiva la passiva lo sapremo probabilmente nel metà del 24 qualcosa sul 23 prima non è possibile avere un'idea credo che comunque il fatto che aumentino gli interventi nella nostra realtà fa sì che meno persone vanno fuori perché più o meno da un punto di vista epidemiologico sono questi il numero degli interventi che vengono fatti in un anno quindi se si cresce da una parte difficilmente poi aumentano dall'altra voglio aggiungere che quindi questo è un dato che possiamo darlo nell'ultimo bilancio che noi abbiamo approvato c'è una lieve flessione sulla mobilità meno mi pare 300 mila euro è un dato diciamo così non significativo sui diversi milioni però è significativo che Pesaro fa più 4,5% di mobilità proveniente da altre regioni naturalmente il monitoraggio per noi è quello che diceva la dottoressa Storti ci sarà pure qualcuno che può scegliere di andare a curarsi in altre regioni c'è la libertà in Italia di andarsi a curare dove un cittadino vuole però mi pare di poter dire che nel momento in cui vengono potenziati i servizi e quindi vengono ci sono più offerte per i servizi sul territorio probabilmente secondo logica dovrebbe calare anche la mobilità questo aumento di produzione delle prestazioni della rivasta di Pesaro dovrebbe naturalmente indurre a pensare che i cittadini abbiano trovato nella nostra provincia alle prestazioni e chiaramente voi scrivete ogni giorno direttore delle lettere che ricevete dei cittadini che chiaramente si lamentano certe volte del sistema però io lo voglio sottolineare come dovrebbe funzionare il cittadino che chiama il CUP che non trova la prestazione viene preso in carico ed è l'azienda che secondo i tempi di esecuzione della prestazione lo deve richiamare e gli deve dare la prestazione in questo caso l'azienda che cosa fa verifica se c'è la possibilità di aumentare le prestazioni oppure le deve acquistare sul mercato mi pare che ciò che l'azienda sanitaria di Pesaro ha posto in campo è il sistema che noi stiamo adottando a livello regionale naturalmente come dicevo prima non siamo soddisfatti perché l'87% delle B significa che c'è stato un 13% che non ha avuto soddisfazione ma l'87% ci avvicina alla soglia ministeriale che è del 90% ripeto dobbiamo chiaramente per infrenare il fenomeno della mobilità garantire le prestazioni ho visto che hai parlato delle liste d'attesa passo a questo argomento perché quello secondo me è uno dei più sensibili è il primo impatto che il cittadino ha con il sistema sanitario nel momento in cui io chiamo il CUP e il CUP mi dice l'agenda non è chiusa quindi non posso prenotare questa telefonata che in pratica si conclude con nulla di fatto finisce in quale percentuale cioè io un caso l'abbiamo avuto recentemente ce ne arrivano decine ho fatto un tentativo anche io a prenotare un esame per mia figlia e mi dice che è residente in provincia di Fermo però e mi dice in provincia di Fermo non è prenotabile cioè il 16 febbraio questa è la risposta che mi arriva non è prenotabile né fra 15 giorni né fra un mese né fra un anno voglio dire allora ci dobbiamo chiarire su alcune questioni e mi fa piacere insomma questa interlocuzione con i giornalisti allora le prestazioni a cui il servizio sanitario deve dare obbligatoriamente esecuzione in base al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale non sono tutte le prestazioni che i cittadini chiedono quindi come ci si deve come ci si deve diciamo così raccordare poi ci sarà anche il sottosegretario Salvi che se vuole intervenire naturalmente potrà farlo noi nel caso interrompo era una prestazione con priorità P quindi programmabile non delle adesso adesso se mi fai finire cerco di di spiegare allora funziona così la il cittadino chiama il CUP il CUP se non ha la prestazione nel monitor deve prenderlo incarico deve dire signore oggi la prestazione non c'è però lei deve essere richiamato e la prestazione deve essere garantita se sono tra i livelli essenziali assistenziali negli altri casi quando la prestazione non rientra nei LEA livelli essenziali assistenziali in quel caso l'azienda deve fornire diciamo così una deve fare una proposta ora cosa succede che siccome questo sistema è un sistema che è entrato in vigore recentemente perché le aziende la riforma e la organizzazione provinciale è entrato in vigore il primo gennaio dello scorso anno ma i direttori generali come voi sapete sono stati nominati tutti negli ultimi mesi dello scorso anno quindi diciamo che è un sistema in rodaggio però deve essere chiaro che il CUP non può rispondere non ci sono le prestazioni sono chiuse quindi diciamo che comunque deve essere data una risposta ora convertire un sistema che era basato su un'azienda unica che era e quindi tantissimi operatori che devono intervenire è chiaro che è un problema tanto è vero che in assessorato sanità faremo stampare delle locandine che verranno appese davanti ad ogni CUP in cui i cittadini sono resi edotti del proprio diritto nel senso che i cittadini vengono resi edotti cittadino se la prestazione non c'è lei ha il diritto di essere preso in carico e l'operatore che naturalmente risponde come è stato detto da te in modo diciamo così non conforme alla direttiva che non avrebbe potuto dire le prestazioni sono chiuse per tutta la regione avrebbe dovuto dire lei viene preso in carico e il sistema deve garantire la prestazione se è un LEA quindi diciamo che è un sistema in via di riorganizzazione e non è un caso che a questo sia stato deputato appositamente il dottor Salvi con la figura del sottosegretario alla presidenza della regione Marche poi se il dottor Salvi vuole intervenire naturalmente può farlo è libero di intervenire dottor Fiaccarini mi sono spiegato sì sì ho capito non specifico che nel caso che ho citato cioè quello il tentativo che ho fatto io ma giusto per fare una prova poi in realtà c'era una possibilità a Senigallia di fare la vista pneumologica e addirittura pure il 12 marzo e il 16 ottobre ad Ascoli quindi da questo punto di vista la risposta c'è stata in altri casi è stata una risposta però è una risposta che dal punto di vista organizzativo diciamo così dobbiamo conformarla allora per essere lo ripeto soprattutto voi che ricevete tanti messaggi e quindi noi abbiamo bisogno di che la comunicazione sia una comunicazione corretta lo ripeto se la prestazione tra quelle previste nell'EA il cittadino ha il diritto che sia garantita la prestazione le aziende che non hanno in quel giorno la prestazione devono acquistarla sul mercato aumentare la prestazione e comunque i cittadini devono avere una risposta questo è il sistema se poi ci sono delle disfunzioni ecco sono disfunzioni che noi stiamo cercando di correggere il dottor Salvi presiede ogni lunedì la conferenza dei direttori generali talvolta insieme a me e stiamo cercando di vedere la patologia cioè la regola è quella la patologia perché si risponde in un certo modo se sono bloccate cerchiamo di verificarlo e se posso vado avanti con le domande se posso perché dobbiamo parlare un po' è importante questo che il direttore di un giornale come te insomma è comunque responsabile del giornale di Pesaro ponga tutte le domande a cui noi possiamo rispondere insomma ponete tutte le domande critiche ditecele tutte in modo tale che sentiamo il tema il tema del nuovo ospedale credo che vada affrontato comunque perché per capire a che punto siamo anche con il cronoprogramma che era stato approvato nell'accordo col comune del 2022 c'è il passaggio del il 30 settembre sarebbe fissata il trasferimento delle strutture presenti nell'area di muraglia per permettere alvio dei lavori il 30 settembre è relativemente vicino ci siamo diciamo possiamo rispettarlo questo cronoprogramma o siamo un po' fuori no diciamo che ci siamo perché per quanto riguarda le strutture per acuti sono già state individuate le sedi presso l'ospedale San Salvatore un paio di reparti è già stati trasferiti per le malattie infettive stiamo rivelificando l'impianto perché vogliamo essere sicuri quindi abbiamo fatto già due verifiche modificate alcune cose per poterli trasferire quindi tutti quelli che vanno a San Salvatore seguiranno quella che è la tempistica per quanto riguarda le altre palazzine stiamo chiudendo il procedimento per quanto riguarda l'individuazione di dove poter trasferire le residenzialità naturalmente nella temporaneità dell'esecuzione dei lavori per poi rinternetizzarli di nuovo da noi quindi diciamo che se non ci sono ulteriori delle situazioni nuove noi stiamo andando avanti con il cronoprogramma che era stato concordato scusi mi può spiegare l'ultimo passaggio che non l'ho capito bene cioè quello allora per quanto riguarda le altre palazzine diceva sì le altre palazzine abbiamo fatto due procedure di evidenza pubblica la quale non ha portato a nessuno adesso siamo nella fase di utilizzare un altro sistema che può essere utile credo che ci siano 15 giorni di pubblicazione e poi dopo andiamo avanti insomma siamo nei tempi non è quello un problema perché noi sappiamo che prima della previsione devono essere demolite quindi ci teniamo molto che questo venga rispettato questo cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori alla fine dell'anno alla fine del 2024 anche su questo possiamo confermarlo insomma alla fine del 2024 inizieranno i lavori del nuovo ospedale di Pesaro sì sì per noi è tutto confermato sta procedendo secondo il calendario previsto non ci sono in questo momento degli impedimenti ecco salvo poi però non dobbiamo arrivare a garantire il rispetto dei tempi tanto più per il fatto che ci sono le risorse pubbliche che sono stanziati perché al di là di quello che diciamo così si dice la novità è che la regione ha le risorse per poterla realizzare l'opera per anni per dieci anni si è parlato l'ospedale senza il cittadino le risorse l'ultima domanda è sull'atto aziendale di cui si è parlato in questi giorni con varie polemiche che non è stato ancora approvato quando sarà approvato perché è un passaggio fondamentale nella riorganizzazione mi pare di capire polemiche in che senso se ne puoi dettagliare non le conosco non le conosciamo no polemiche politiche intendo cioè qualche consigliere regionale che ha sottolineato il ritardo nell'approvazione dell'atto aziendale allora l'atto aziendale dopo le elezioni allora la risposta che possiamo fornire è questo l'atto aziendale segue la riforma che è entrata in vigore da un anno il precedente atto aziendale era stato redatto molti anni fa quindi probabilmente il collega il consigliere regionale quando era al governo non si era ricordato che c'era l'atto aziendale adesso sì comunque siamo senza polemica con nessuno naturalmente voglio dire semplicemente che le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale sono all'esame della commissione consigliare di cui il collega fa parte e comunque per essere chiari vi do una notizia la dottoressa Stotti l'ha già preparato ma naturalmente noi dobbiamo portare all'esame prima le commissioni consigliari poi vi do un'altra notizia è stato deliberato dall'aggiunta il regolamento per la conferenza dei sindaci questo organismo di partecipazione dei sindaci agli atti di programmazione non era mai stato approvato quindi dalla legge 502 del 92 i sindaci non avevano avuto uno strumento per poter intervenire perché mai era stato approvato il regolamento noi lo abbiamo deliberato in giunta adesso è all'approvazione del CAL quindi tutto ciò che verrà programmato in sanità sarà anche sottoposto all'esame della conferenza dei sindaci uno strumento ripeto previsto la legge 502 del 92 la riforma madre della sanità e nella nostra regione dimostriamo se mi permettete la coerenza con il principio di leale cooperazione quindi la regione non esclude i comuni ma li rende partecipi delle decisioni e della programmazione della sanità e questo viene fatto sotto la guida del governo Acquaroli la mia ultima domanda la mia ultima curiosità è sull'esplosione ho visto degli interventi a pergola a cosa è dovuto? è dovuto che essendo un'azienda unica a questo punto abbiamo messo in sinergia quelle che sono le liste di attesa per gli interventi chirurgici e abbiamo differenziato interventi di alta complessità che necessitano di robotica in uno stabilimento di media alta complessità in un altro di medio bassa e di bassa complessità quelli di bassa complessità tenendo conto di quella che è l'organizzazione dell'ospedale sono stati delocalizzati e quindi questo ci permette di ottimizzare il personale e le tecnologie presenti all'interno delle sale operatorie di Pergola direttore se posso permettermi ti farei mandare anche i dati dell'ospedale di Fossombrone che ha raddoppiato l'attività compresi i posti letto quindi diciamo che ci sono problemiche che chiaramente si intuiscono a livello politico per la nota città di Pergola naturalmente ecco occorre valutare che c'è stato un aumento della produzione di tutte queste strutture quindi Fossombrone sono i dati oggettivi Urbino Sasso Corvaro qual è l'intenzione se questi ospedali hanno una una ragione di esistere devono chiaramente produrre anche dei servizi questo è il motivo per cui di fatto ieri abbiamo presentato i dati e non ho visto oggi sui giornali un grande spazio però diciamo con grande chiarezza sono dati inequivocabili ecco io te li farei mandare perché raddoppiano le prestazioni territoriali e questo sgonfia l'accesso nei pronti soccorso quindi se Pergola fa il suo dovere Fossombrone Cali Sasso Corvaro Macerata Perti a Bure all'ospedale di Urbino probabilmente si presenteranno meno cittadini e all'ospedale di Fano e di Pesero ecco io te li farei mandare dottoressa Stotti ti rimando dottor Fiaccarini questa è la ragione per cui stiamo cercando di renderli funzionali questi ospedali grazie ci sono altre domande se non ci sono altre domande e il sottosegretario Salvi non è collegato io ringrazierei la dottoressa e tutto il suo staff per il lavoro svolto sono dati importanti accoglievo nelle domande il insomma un po' una vena anche di natura diciamo politicamente polemica sul ruolo di Pergola io credo che Pergola ma non solo Pergola Fossombrone e tante altre realtà io penso che queste strutture debbano avere un senso non debbano mettersi in competizione con Pesaro con Fano e con Urbino ma possono essere sicuramente utili a una sanità diffusa che va incontro ai cittadini e soprattutto va anche se mi permettete a caratterizzare queste strutture per una loro vocazione oltretutto laddove in altri territori regionali e anche extra regionali laddove non c'è una possibilità di intervenire con strutture similari si va a sovraccaricare le strutture che hanno una vocazione diversa o in alternativa si ricorre al privato convenzionato per l'erogazione di questi servizi quindi credo che se si riesce a recuperare e a valorizzare alcuni ospedali o ex ospedali che oggi possono essere funzionali per garantire servizi sul territorio credo che questo possa essere molto importante certamente non dobbiamo ripeto metterli in competizione né dobbiamo voglio dire penalizzare poi altri tipi di ospedali ma non credo che per quello che concerne la provincia di Pesaro Urbino questo stia accadendo perché i numeri di Pesaro i numeri di Fano i numeri di Urbino sono numeri altrettanto inequivocabili quindi se tutti lavoriamo diciamo in maniera più sinergica forse ecco riusciamo anche a ottenere dei risultati migliori superando i campanili e cercando di comprendere che ogni struttura può avere una sua vocazione può avere anche una sua centralità nel affrontare quelli che sono appunto le prestazioni che gli vengono assegnate grazie per averci seguito buona prosecuzione di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti